inizio nel dire che abbiamo voluto cambiare anche il nome della nostra lista non è non è più come una volta santomaso si può fare in prima chito il nome era oltre i campanili ma ci hanno fatto delle osservazioni che bisognava modificare il nome alla lista e l'abbiamo così scritta oltre i campanilismi oltre i campanilismi si intende che dobbiamo andare oltre quelli che sono così i cosiddetti campanili di un territorio che non è soltanto il territorio comunale visto per sé ma proprio in un territorio ormai in vista proprio di un agordino intero abbiamo visto che questo a mandata elettorale ci sono molte liste liste uniche sempre più difficili a trovare giovani o comunque persone che ci possano sostituire i comuni non lo so non so quanto avranno ancora vita nel senso che se continueranno a esserci questi problemi immagino che le varie aree montane dovranno andare in una strada di raggruppamento ora voler dare il nome oltre campanilismi era proprio guardare oltre quello che è il territorio comunale perché ormai da anni chi fa sindaco chi amministra non ha soltanto il suo il suo comune da amministrare ma poi c'è una montana e tutti gli altri enti non di minore importanza ai quale sindaco e candidati della nostra lista debbono comunque poi partecipare insomma come rappresentanti del nostro comune ecco questo era il perché abbiamo voluto cambiare anche il nome la premessa mi propongo per questo quarto mandato in quanto con dispiacere e questa è la verità non è non sono parole di circostanza non è stata presentata una nuova lista che potesse portare nuova energia al nostro territorio comunale questi 15 anni dedicati ad amministrare il nostro comune assieme ai vari consiglieri che mi hanno affiancato non sono stati semplici per molteplici motivi in primis perché l'impegno ha sottratto tempo al lavoro alla vita familiare alle passioni di ognuno l'altro aspetto che mi ha messo a dura prova è stata la gestione delle numerose criticità che si sono susseguite l'emergenza neve nell'inverno 13 14 la tempesta vaia che a fine ottobre del 2018 la pandemia covit nella primavera 2000 un decennio amministrativo non semplice malgrado questo non ci siamo limitati alla normale amministrazione ma abbiamo cercato di portare novità che potessero migliorare e rendere più attivo dal punto di vista turistico santo maso oltre che creare posti di lavoro di seguito mi permetto di elencare le attività che il gruppo amministrativo che ha proceduto ha portato a compimento in primis c'è la ziplà in civetta l'arena 1082 verticare a dolomiti siamo orgogliosi di aver completato verticare a dolomiti opera finanziata con i fondi di confine di aria vasta a cui ci sono aggiunti i contributi del comune è composta da una magnifica palestra di roccia indoor e un annesso bar ristorante il riscaldamento è a biomascia e già in futuro potrà e in futuro potrà alimentare tutte le strutture presenti nell'area degli impianti sportivi il fine dell'amministrazione era molteplici innanzitutto creare una struttura non ancora presente sul territorio che potesse fungere anche dal luogo di incontro e scambio in secondo luogo dare anche posti di lavoro questa innovativa palestra di roccia è stata presentata non solo per i turisti ma anche per avvicinare i residenti di tutte le età soprattutto i bambini e i ragazzi che possono ritrovarsi in questo ambiente protetto e a contempo aggregante il lavoro dei gestori ha dato fino ad ora ottimi risultati vi sono in essere convenzione con alcuni istituti scolastici tra cui si ricorda l'istituto compressivo di cencinighe l'istituto superiore a folador dei rossi ad oggi i bambini i ragazzi iscritti ai corsi che si tengono tre volte alla settimana sono una sessantina la palestra è stata lo scorso anno anche sede di campionati regionali per i ragazzi e adulti sia di velocità che di difficoltà 19 del 20 e il 21 maggio 2023 ha ospitato affiancando san martino di castrozza il campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva circa 300 climbers under 16 under 18 under 20 si sono sfidati nella parete speed quest'anno a gennaio ha ospitato le gare veneto speed junior cup under 10 12 14 e 16 e anche 18 e a febbraio il campionato regionale assoluto speed senior e veneto speed junior cup interventi sugli edifici comunali abbiamo riqualificato dal punto di vista energetico i tetti dei principali edifici comunali così come l'edificio scolastico che attualmente ospita la scuola dell'infanzia e il centro orti rupestri attraverso l'installazione di pannelli solari la sostituzione degli infissi sono stati anche cambiati i portoni di magazzini comunali la realizzazione della centralina idroelettrica sul ruolo delle notole il progetto dolomiti rocks miniature il centro orti rupestri questo mi permetto di leggere anche un po all'interno abbiamo inaugurato nel novembre 2022 nell'edificio ospitante fino a decine di anni di anni fa la scuola primaria il centro di conservazione della biodiversità coltivata denominato orti rupestri nato al termine di un lungo percorso di collaborazione trasportaliera con l'austria la struttura è stata visitata da oltre 250 persone lo scorso anno e da già 150 persone in questa annata su questo voglio aggiungere che stiamo collaborando con l'università di ancona siamo anche noi iscritti come stakeholder nel progetto che stanno così sviluppando in tutta europa che siamo in che si chiama increase il quale riguarda tutte le tematiche delle dei fagioli della coltivazione consociata appunto e siamo anche stati ospiti a roma a una manifestazione della fao dove abbiamo presentato presentato questo progetto in di cui insomma ne andiamo fieri perché non è anche questo un percorso facile però insomma vediamo che troviamo riscontro i vari interventi sul territorio sono state perseguite le complesse attività per la messa in sicurezza del territorio comunale attraverso interventi di bonifica boschiva di sistemazione idrogeologica di consigliamento dei versanti di realizzazione di strade silvopastorali sono stati interventi alcuni in fase di completamento su parte della viabilità comunale dobbiamo dire che possiamo dire che insomma non tutti i mali vengono per nuocere sarà anche una frase fatta ma vaia al di là poi dei boschi che vedranno ancora cent'anni prima di ritornare come prima ma vaia fortunatamente non è proprio sì è stata anche come possiamo dire anche una mana da cielo si si può anche utilizzare questo termine perché siamo riusciti poi a sistemare delle problematiche che si sono accentuate appunto con con quella tempesta le quali se non avessimo avuto i soldi della protezione civile attraverso la regione veneto non avremmo mai potuto mai potuto realizzarli i vari servizi ai cittadini è stato istituito il gruppo di protezione civile comunale che consente di intervenire sul territorio in tempi rapidi e comunque sempre in stretta sinergia con la provincia e con la regione si è giunti alla sottoscrizione di un accordo concunale con l'unione montana in base al quale verrà migliorata la digitalizzazione e l'innovazione dei servizi del portale telematico del comune anche in linea con le finalità strategiche del pnrr sono state conseguite per due annualità consecutive scusate sono state sostenute con due annualità consecutive luti utilizzando utilizzando e richiedendo dei fondi ad hoc le piccole imprese inoltre con il contributo di 1.000 euro per ogni nascita si è cercato di sostenere anche le famiglie almeno per la prima parte della vita dei loro figli si è avviato e portato termine il progetto ospitalità diffusa che ha consentito la riqualificazione di alcuni edifici e l'accoglienza di un buon numero di turisti si è poi destinato un contributo al gruppo dell'ospitalità diffusa per la creazione di un sito attraverso il quale le persone interessate a vivere la montagna a misura d'uomo possono trovare le strutture adatte alle loro esigenze e le risposte alla loro curiosità siamo riusciti a potenziare notevolmente le cucine presso gli impianti sportivi con l'intento di offrire un'ulteriore possibilità di apertura al territorio e l'associazione in esso operanti sono stati rinnovati accordi e convenzioni con il gruppo alpini con la proloco con il gruppo folk bati ors con l'associazione artoffici le dolomitici con la ps orti rupesti associazioni di volontariato che rendono poliedrica l'offerta culturale folkloristica del nostro del nostro paese devo dire che comunque ringraziamo sicuramente le associazioni che nel limite delle loro possibilità riescono sempre a dar qualcosa al territorio vorrei ricordare che è nato da poco il gruppo folk batti ors questa è una novità per il nostro comune non esisteva un gruppo folkloristico che raccoglie fra i suoi iscritti anche molti giovani e anche bambini non solo di santo maso ma del territorio cortino l'investimento complessivo gestito negli anni la cui in cui la nostra amministrazione ha operato ammonta circa 17 milioni di euro mi piace rimarcare questa cifra perché è una cifra importante sono dati di bilancio e non è stato facile sicuramente portarli a casa e oltretutto molto anche più difficile rimetterli poi in campo con i vari interventi con con i vari appalti che sono stati interamente gestiti sono stati interamente gestiti dai nostri uffici e dall'unico responsabile dell'ufficio tecnico che abbiamo pertanto ogni tanto insomma si sa abbiamo dei problemi ma diamo anche una pacca sulle spalle al nostro responsabile ufficio tecnico che da solo in questi anni è riuscito a gestire anche sicuramente con nostro aiuto e gli altri uffici questo importante questo importante quota quota economica appunto mai raggiunto in precedenza queste cifre che ha portato alla creazione di oltre dieci posti di lavoro ad un incremento turistico pari al 150 per cento come si può esumere dalle tabelle riportate di seguito secondo i dati istat da 1499 presenze registrate nel 2019 si è passati a ben 3.408 presenze riferite all'anno 2003 e posso anche dire che credo siano anche sottostimati questi dati altro obiettivo primario è quello di migliorare l'intera si adesso passiamo anche i progetti futuri perché sono qua se parla solo di passato ma il vero programma il vero programma nasce ora insomma progetti futuri in continuità con quanto descritto nella premessa il nostro intento è quello di e quello innanzitutto di mettere a regime quanto fatto di completare tutto ciò che è stato cantierato e di creare ulteriori migliorie e risparmi sulle spese corrente del bilancio comunale sottolineo che in questi 15 anni non abbiamo mai acceso un mutuo e questo insomma non è semplice gestire un'attività comunale che ormai va gestita come fosse un'azienda e non incurrere poi anche nell'accesso al credito energia rinnovabile intenzione quella di mettere mano alla rete di illuminazione pubblica e alle obsolete caldaie a gasolio che alimentano gli impianti di riscaldamento del nuovo vecchio municipio nonché delle scuole nonché delle scuole questi interventi ci consentiranno di ottenere importanti risparmi e di avere un servizio moderno ed efficiente in questi anni abbiamo operato come già in premessa parecchio sulla riduzione delle spese correnti sono le spese che gravano per circa 800 mila euro sul nostro bilancio adesso abbiamo ancora questa piccola questa piccola range da poter modificare dopodiché più di così non si può tagliare viabilità e lavori pubblici ad obiettivo primario è quello di migliorare l'intera rete viaria comunale che attualmente è in sofferenza per vari motivi connessi soprattutto l'esbosco forzoso e al conseguente passaggio di mezzi pesanti una parte di queste sistemazioni le asfaltature più che altro riguarda scusate sarà realizzata da enel in particolare nella zona di avoscan e lungo la strada provinciale 8 nel tratto avoscan roi la tratta del fondo valle di avoscan enel deve ancora interrare un tratto di elettrificazione che va dalla centralina fino sulla gabina e dopo di che varrà anche asfaltata tutto quel tratto di strada anche in questi giorni mi sono attivato per capire perché le promesse erano che intervenivano a giugno a seri problemi anche loro con le ditte ma almeno poi le promesse lasciano il tempo che trovano ma mi dicono insomma che nei prossimi mesi non nella parte sicuramente estiva di agosto ma poi questi lavori verranno realizzati questa mi è stata data garanzia però chiaramente una garanzia voce però questi interventi comunque devono completare particolare attenzione sarà riservato allo studio e alla realizzazione finanziamenti permettendo di parcheggi pubblici in alcune frazioni che mancano che mancano di questo servizio e nelle quali gli attuali parcheggi non corrispondono pienamente aree reali necessità della popolazione ci impegneremo per ottenere la messa in sicurezza dell'asta del cordevole che scorre a fianco delle frazioni sotto la rue stani e ripristino della viabilità lungo l'ex strada regionale 203 la realizzazione di un nuovo marciapiede nella zona di amoscan e il recupero di quello vecchio migliorerà la sicurezza pedonale in quell'area particolare cura verrà destinata a ripristino di alcune strade silopastorali che attualmente necessitano di importanti interventi di manutenzione si sta aggiornando si sta ragionando anche sulla possibilità di dare nuova vita all'ex edificio canonica nonché di creare un edilizia residenziale per giovani coppie la pubblica istruzione nell'ottica di continuare a contribuire all'arricchimento dell'offerta formativa per concorrere alla crescita di cittadini responsabili e consapevoli è il nostro intento mantenere servizi agli studenti e alle loro famiglie acquistando tra l'altro un nuovo pulmino proseguire nell'intervento nell'investimento di risorse per dare continuità alla proficua e stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche condividere con le scuole progetti educativi che coinvolgano sempre più bambini ragazzi famiglie nell'ottica di un pensiero di crescita condiviso collaborare con la scuola per promuovere e sostenere progetti formativi ed educativi riferiti alla tutela a rispetto e all'utilizzo consapevole del territorio di appartenenza in sociale manteremo il contributo di 1000 euro bonus bebè destinato alle famiglie in occasione di una nuova nascita la nostra amministrazione continuerà a partecipare economicamente al mantenimento dell'asilo nido presente a Cencenniga in modo da ridurre in parte la quota mensile a carico delle famiglie via il progetto di dare vita ad una collaborazione con la croce verde di alleghe per mettere a disposizione un mezzo particolare adatto al trasporto di persone disabili e con difficoltà di diambulazione mantenendo comunque la proficua collaborazione con auger asca e us protezione civile sicurezza si acquisterà un mezzo dedicato per gli interventi di protezione civile verranno organizzati ulteriori corsi di specializzazione del personale volontario verrà comparato un nuovo mezzo sgombra neve un trattore munito di vomere braccio sfalciante e spargigliaia che potrà rendere più agevole lo sgombro delle strade nel periodo invernale e consentirà di mantenere manutentati i cigli e le aree limitrofe si provvederà al censimento manutenzione e aggiornamento di tutti gli idranti presenti sul territorio con l'intento di alzare il livello di sicurezza territoriale infine verrà realizzato un nuovo magazzino comunale che potrà ospitare oltre ai mezzi anche la sede della protezione civile comunale e nostra volontà creare una piazzola per l'elli soccorso allargando l'accesso a fradola in modo a consentire ai mezzi di soccorso un intervento più tempestivo in caso di particolari emergenze per quanto riguarda il turismo l'intenzione di continuare a mantenere le peculiarità del nostro territorio offrendo ai turisti che lo vorranno visitare e conoscere un'accoglienza a misura d'uomo in grado di accoglierli durante il corso dell'intero anno fornendo molteplici esperienze date dalla presenza della zip line che sarà di nuovo funzionante alla palestra ai roccia al sentiero delle domiti in miniatura alla visita del centro orti rupesti dal planetario dai percorsi dedicati presenti sul territorio obiettivo che cercheremo di percorsi per seguire sarà quello di creare un innovativo giardino alpino in cui possano essere raccolte le piante più rappresentative della flora montana le conclusioni il programma presentato non è sicuramente esaustivo di tutte le problematiche che dovremo affrontare nei prossimi cinque anni il nostro intento è quello di continuare ad amministrare con spirito di servizio ed in modo pratico e costruttivo lavorando per il bene del nostro paese inserito in un più ampio contesto quello dell'intera vallata gordina e non solo vivere il paese stimolando nella crescita continuando il percorso di cambiamento che ci contraddistingue è il sogno che vogliamo realizzare con il contributo di tutti ecco il nostro programma elettorale sicuramente non è uno specchietto pelle allodole gran parte di quello che è stato elencato è sicuramente fattibile voglio anche dire che i programmi elettorali che abbiamo presentato negli tre altre nostre amministrazioni sono state pienamente sono stati pienamente realizzati e siamo riusciti anche andare oltre ecco io credo che al nostro territorio non servano fare delle promesse che poi non si possano mantenere ma al nostro territorio bisogna dare quello che siamo sicuri di poter dare poi strada facendo escono sempre vari vari finanziamenti vari linee finanziamento che sicuramente saremo sul pezzo per poi vedere se riusciamo anche a portarla a casa per realizzare eventualmente qualsiasi altra miglioria che possa essere in itinere per quanto riguarda insomma la vita del nostro territorio questo è il nostro programma elettorale se ti sono delle ci si dimentica sempre anche se passano poi devo ringraziare il segretario che ci fa anche memoria tanti nel venire ci si è presa anche la memoria questa allora appunto è una mera presa dato passiamo